Cosa significa oggi il risorgimento? Come interpretare le storie e i personaggi in una chiave attuale e contemporanea? Risponda a queste domande la mostra Rileggere il risorgimento Torino Italia 1884-2024, curata da Alessandro Bollo, Silvia Cavicchioli e Daniela Orta, allestita sino al 16 febbraio 2025 al Museo del Risorgimento di Torino. Della mostra tratta la nuova puntata di Storia Metropolitana, la rubrica di Città Metropolitana di Torino dedicata al racconto dell'eccellenza e delle curiosità del territorio. La mostra ricorda, a 140 anni dall'evento, il primo allestimento del Museo del Risorgimento, quando in occasione dell'Esposizione Generale Italiana del 1884 nel Parco del Valentino, si allestì il Tempio del Risorgimento, una mostra provvisoria ma di respiro nazionale, preludio della successiva Costituzione nel 1901 del Museo. Quali personaggi, quali racconti si nascondono dentro questi oggetti e quanto i valori, gli ideali e le acquisizioni del Risorgimento siano ancora importanti per comprendere il nostro presente? Sono Cimeli dei cosiddetti padri della patria, che rappresentano appunto Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, Garibaldi, Cavour, il primo presidente del Consiglio dell'Italia Unita e Mazzini, il grande leader democratico. Credo che colpirà l'immaginazione del pubblico questo paio di pantofole appartenute a Garibaldi, che sono in realtà delle pantofole, diciamo così, sono un oggetto in realtà simbolico che viene a lui donato, quando lui ormai è avanti con gli anni, che riportano tutti i simboli di tutte le province italiane. Un altro Cimeli, a cui sono particolarmente affezionata, sono due Cimeli che riguardano Mazzini. Uno è il cosiddetto plaid che lo copre nel momento della morte, in questo grande quadro che lo celebra di Silvestro Lega, Mazzini Morente. E l'altra è la chitarra, perché noi abbiamo magari anche un'immagine così, forse molto austera in qualche modo, di Giuseppe Mazzini. In realtà Mazzini era uno che amava intrattenere anche i suoi compagni, i suoi amici e le sue amiche suonando e con la chitarra intonando canzoni.